Buongiorno a tutti e benvenuti sull'angolo di Claudia. Allora, oggi andiamo a vedere, perché è sempre un argomento molto richiesto, andiamo a vedere con tre varianti se ci sarà un ritorno. Ho scelto tre numeri e sono numero 1, numero 5 e numero 9. Quindi, scegliete o il numero 1, il numero 5 o il numero 9 e andiamo a vedere se c'è questo ritorno. Allora, comincio dalla prima variante, variante numero 1. Allora, variante numero 1, andiamo a vedere se c'è questo ritorno. Variante numero 1, ci sarà un ritorno. 10 di coppe, già promette molto bene. Ci sarà un ritorno. Ci sarà un ritorno. Allora, sì, prima variante. 10 di coppe e folle. Allora, questa persona vuole assolutamente di nuovo una riunione con voi. È una persona un po' che si butta, è un po' che non pensa molto, che si butta, è una persona impulsiva, è un po' il folle, no? Quindi, magari, per alcuni di voi dovete capire bene veramente questa persona che cosa vuole, perché ha l'energia del folle, quindi di qualcuno che magari si fa prendere, no? Da un gesto impulsivo, però poi magari non c'è questa affidabilità, ok? Però sicuramente la possibilità c'è, il ritorno c'è, ok? Passiamo alla seconda variante, numero 5. Allora, seconda variante, numero 5. Andiamo a vedere, per coloro che hanno scelto la seconda variante, quali energie ci sono, quali energie ci sono per vedere se c'è questo ritorno. Che energie ci sono per coloro che hanno scelto la seconda variante, se ci sarà un ritorno per coloro che hanno scelto la seconda variante. Sì, anche la seconda variante è una risposta affermativa, cavallo di bastoni e tre di denari. Questa persona torna con grande determinazione, con grande focosità, anche perché è un cavallo di bastoni, con grande passionalità, perché vuole con voi una nuova, un tre di denari, quindi anche qualcosa di concreto proprio, una nuova collaborazione, un nuovo inizio con voi. Il cavallo di bastoni è sicuramente una figura, come ho detto prima, molto passionale, molto determinata e quindi sì. C'è questa nuova possibilità. Seconda variante, la risposta è sì. Andiamo a vedere ora la terza variante, numero 9. Allora, per la terza variante, quali sono le energie per questo eventuale ritorno? Ci sarà un ritorno, ci sarà un ritorno, ci sarà un ritorno, ci sarà un ritorno per la terza variante, ci sarà un ritorno... Wow, addirittura ne sono uscite quattro. Allora, terza variante, abbiamo il 9 di bastoni, il mago, la papessa e il 5 di spade. Allora, terza variante, questa persona ha un'energia ancora un po' ferma, nel senso che è una persona che appunto con il 5 di spade fa evidenze appunto che si è allontanata, si è allontanata e però è in un'energia in cui comincia con il mago a... vorrebbe un nuovo inizio, ha una consapevolezza con la papessa vicino al mago di volere questo nuovo inizio, però è ancora un po' sulle sue, è ancora in una fase statica. Quindi, se devo rispondere, se ci sarà un ritorno oppure no, è un ni, nel senso che l'intenzione ci sarebbe, però non c'è in questo momento un'energia di movimento, è ancora nella sua interiorità. Bisogna vedere, ovviamente, se poi queste energie si evolvono verso un'azione, ma in questo momento le energie sono queste, cioè ci è desiderio, la volontà di iniziare un qualcosa con il mago e con la consapevolezza profonda della papessa, però è ancora un qualcosa di fermo, di statico, ok? Bene, allora io vi saluto, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina per le notifiche e ci vediamo al prossimo video. Ciao!